Non sono confortanti gli ultimi dati sulla violenza domestica ai danni delle donne nel primo trimestre del 2021. I casi, anche a causa del lockdown imposto dalla pandemia, sono raddoppiati in provincia di Crosseto, passando da 17 a 34. Un'escalation dunque in netta crescita che preoccupa non poco la locale associazione Olimpia di Gouge, da anni impegnata nel contenimento del fenomeno. Io credo che in situazioni già compromesse questo possa aver avuto un'influenza, perché il fatto di stare più in casa, i bambini impegnati nella didattica a distanza, la perdita del lavoro, oppure minore entroiti economici, abbia potuto far esplodere delle situazioni di violenza fisica. La pandemia esaspera le già critiche situazioni familiari, per questo è importante contenere il fenomeno e laddove possibile sostenere le donne in difficoltà. Noi ci siamo, rispondiamo al telefono e manteniamo contatti con le donne che ci chiamano, con contatti telefonici, mettendo in moto quella che è la rete, la rete nostra, delle avvocate, delle psicologhe e la rete territoriale. La nostra presenza, il nostro supporto è garantito anche perché abbiamo abbastanza l'agio di muoversi, in quanto i centri antiviolenza sono riconosciuti come servizi essenziali.